L'obiettivo è continuare a lavorare in sicurezza nonostante le disdette traccene aziendali e anche locali che non faranno più cenoni di fine anno. A parlare così è Gabriele Armenti, presidente del settore Banking di Confcommercio Pescara, nonché titolare del ristorante Gabrielino di Picciano. Armenti parla del Super Green Pass come mezzo per proseguire l'attività, ma nello stesso tempo dice Sicuramente con l'avvento di questi nuovi contagi, quindi della quarta ondata, la gente ha più paura, c'è più incertezza, c'è più timore e quindi naturalmente questo si ripercuote su coloro che vivono di convivialità, di socialità e quindi nel nostro settore, quella della banchettistica, grandi aziende con gli eventi di fine anno, cene degli auguri, eccetera, in minima parte risente anche di questa situazione. Stiamo ecco valutando in tanti anche di non fare più il cenone. Certo è che col Super Green Pass per noi è importante perché ci permette di non chiudere, questo è l'obiettivo principale, la non chiusura. Una stampella fondamentale resta poi l'asporto. Beh sì, senz'altro, l'asporto ci permette di tenere vive le nostre aziende, di far passare anche il momento difficile e soprattutto di bilanciare la mancanza, qualora ci fosse appunto, degli ospiti, quindi comunque degli invitati che avremo in questo fine anno. La perdita in termini economici io credo sia stata importante? Beh in parte sì, in parte sì, è una perdita che non volevamo avere francamente quest'estate per chiudere un anno bello, sicuramente perché la ripresa c'è stata quest'estate e non volevamo, però purtroppo sì, in quota parte sì perché faccio un esempio, il pranzo di Natale senza poter far venire un fratello piuttosto che una sorella in quanto non vaccinato, è normale che trascina tutta la famiglia, per cui poi la mancanza dell'intera comitiva, dell'intera famiglia. Quindi da un lato il Super Green Pass garantisce la sicurezza vostra e dei clienti, dall'altro lato però c'è la problematica che mi ha appena detto. Perché sì, limita sicuramente l'ingresso di tanti ospiti che magari avevano già pensato di frequentare il nostro locale, i nostri locali, però ripeto è anche importante perché ci fa anche recuperare quella quota di incerti perché ci dà maggiore sicurezza. Voi ci tenete a precisare che i vostri locali sono sicuri? Ma certamente, questo deve essere il messaggio che noi vogliamo dare a tutti i nostri ospiti, a tutte le persone che frequentano i ristoranti in questo fine anno, è proprio che vogliamo rispettare le regole in funzione di un'igiene, in funzione di una maggior sicurezza e trasparenza. E sui controlli? Però certamente sul controllo io sono stato uno dei più convinti assertori che non dovremmo essere noi, non doveva essere sin dall'inizio noi, perché ripeto noi siamo dei pubblici esercizi e non dei pubblici ufficiali.